Altre domande? Prego. Roberto De Friggio, Produzioni Mentali. Mi scuso per la domanda di quei colleghi, è proprio una domanda da fan, visto che è il mio fumetto preferito, Thor. La domanda è se ha già scelto chi farà Loki e poi se si ritaglierà un personaggio nel film, se ci ha pensato un ruolo, un piccolo ruolo. E comunque grazie perché credo che farà un ottimo lavoro. Grazie. Il fuori di Loki partire da un personaggio dell'amo English a chiama Tom Hiddleston. E anche in Wallander. A vero e anche in Wallander. In fact, a vero è in il Chekhov che vi partiremo l'amera che mi fanno, che sei in quella che stai spingendo頂. Ma anche inizi like, anche iniziare che farà la catturale. Ma non … playing that and I I don't have any plans currently to be in the film you'll have to watch and find out I guess I'll have to watch and find out